SEGA PEGI 18 SEGA Siamo arrivati alla cryotubesca, meglio fare l'ultima come abbiamo trovato il sintetico sul canale. Hai trovato il sintetico? Abbiamo trovato un po' il sintetico, signor. Chiesa, Mary, abbiamo avuto due civvies su questo bambino. Sì, signor. Uno, Ellen Ripley e Carter J. Burke. Ripley ha le ultime due entri, entrando e esitando un cryotube. Mi ha detto che il po' che abbiamo trovato con i piedi? C'è qualcuno ha avuto l'atmosfera e ha avuto il suo privato. Signor, do rispetto, io non ho fatto nulla parte di questo computer. Private, are you suggesting what I think you're suggesting? Yeah, we go in. Private, iscriviti al nostro canale. Private, iscriviti al nostro canale.